Allora andiamo a un modello di transatlantico. Speriamo che non sia il Titanic. No no, Yamaha, Yamaha, Yamaha. Quanto è largo? Quante persone tiene? 7. No ma sotto c'è la stiva, c'è la stiva, puoi mettere le persone sotto. Adesso guardiamo qui. Adio e voglio, ho parcheggiato l'iPhone. Ciao Fraido, alla prossima. Ma te ce l'hai il mio numero? No. L'hai perso? Sì, dai da un po' che... Guarda che roba! Guarda che cosa accende. Guarda, è bello però. No, no, no. Dio, va, va, va. Guarda che è molto forte. Oh! No, è troppo largo dai. Per i miei gusti è troppo largo. Io sono per il cinquantino... Lo so, lo so. Ecco, è il boosterino, il classico boosterino. È lì, guarda, guarda che bello. Vai! Io vado dritto adesso. Puoi... Ci provi a te. Ci provo dai. No, no, tu ti mando il messaggio. Senti a per telefono dai. No, Jens, eh, eh, fatti... Ciao! 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 Come call in Come see me Come as you are Come catch a firemane Don't let me say, don't say Don't let me say, don't say Don't say, don't say, don't say Come catch me, bae I'm fallin' Come save me, baby I'm callin' Come meet me, bae Come as you are Come catch your fire, bae Don't let me flee from me Don't let me flee from me Grazie per la visione! 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 Buon appetito! Grazie a tutti un mondo non No, 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 no no Non togassu Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie per la visione!